Con Stefano Brandini al termine di Arezzo, Juventus under 23. Stefano, a che stavolta siamo delusi, forse da un altro punto di vista, all'Arezzo è mancata l'intensità, la lucidità e abbiamo visto una squadra un po' stanca specialmente nella ripresa. Assolutamente sì, ma secondo me è più una stanchezza mentale. Il risultato di Siena è stato una botta tremenda, perché la partita con il Siena è stata il picco della prestazione dell'Arezzo, si parla di tre partite fa. Ponte Terra poteva essere l'occasione per cancellare quella domenica maledetta, però il fantasma del gol dell'1-1 ha tolto un po' di serenità questa squadra. Questa squadra lo vedi anche da come gioca, non si cercano più, specialmente nel secondo tempo, lanci lunghi, tant'è che il mister a quel punto ha visto con l'andazzo della partita, ha optato per mettere due giocatori fisicamente dotati e per dire, vediamo, la sfruttiamo le ste palle lunghe. Se questo è il gioco, è una squadra che deve ritrovare un attimo di serenità, non gli manca niente per ritrovarla, perché comunque la classifica resta una classifica importante, le occasioni perse sono molte. Però, voglio dire, anche stasera il risultato in bilico fino alla fine, poi al 91esimo l'Entella ha segnato, ha vinto 2-1 con la Provercelli. È una classifica corta, il Piacenza, per esempio, stasera vincendo a Carrara, ha dato un calcio a una piccola crisi che aveva, l'Arezzo deve ritrovarsi con serenità e con tranquillità. Probabilmente non avrà fatto benissimo neanche il piccolo terremoto societario che c'è stato, io chiedo a tutti di fare quadrato, perché comunque è un campionato bello, è un campionato che l'Arezzo non può mortificare nella seconda parte, ma deve continuare a recitare un ruolo da protagonista, perché ha tutte le carte per farlo, quindi stiamo uniti, stiamo compatti perché è facile applaudire nei momenti importanti, ma bisogna invece essere compatti nei momenti, tra virgolette, di piccola difficoltà. Lo siamo stati otto mesi fa, quando eravamo praticamente moribondi, lo possiamo essere ora terzi o quarti in classifica. Ricordiamoci il 15 febbraio dello scorso anno, cosa accade? Possiamo tranquillamente essere compatti, terzi o quarti in classifica, è un momento così, potevamo tranquillamente essere primi da soli, nonostante la classifica sia una classifica quella che è, però voglio dire siamo lassù, quindi ritroviamo tutti un po' di serenità, la squadra in primis perché questa squadra ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per continuare a essere una delle protagoniste di questo torneo. Detto questo, stasera, specialmente il secondo tempo, forse è stato il più brutto Arezzo visto quest'anno. Va bene, allora dal città di Arezzo è tutto, Arezzo e Juventus 1 a 1, e per quelli che si lamentano consiglio di tirare fuori la foto di Matteoni, detto bombolo. O se no guardate Sky, c'è la Coppa dei Campioli, fate quello che mi pare. Fate quello che volete.